Buongiorno a tutti e benvenuti in questo primo scontro a tema per il tipanarsi delle prossime settimane, se questo è italiano ovviamente ci saranno questi sconti a tema che ho trovato un po' giocando a Mortal Kombat X poi finito questi ma anche andando più avanti i vostri incontri non preoccupatevi con le vostre sfide che mi avete gentilmente chiesto di fare ci saranno ma in futuro, ovviamente non parlo di tre anni il primo scontro è tra Kenshi, vediamo un po' che tipologia di vestiti Ronin e lo prendo bilanzato contro Jason con questo vestito eccoci qua e lo prenderemo in arrestabile ragazzi questo primo scontro a tema è a tema non vedo, non sento e non parlo difficoltà media e giustamente non vedo, non sento, non parlo, stanza allenamento parla bene e usa l'educazione, è chiaro? scusa io sarò il capo della polizia iniziamo? round one, fight però mi stia anche un po' calmo Jason, ha capito? mi sente? mi sente Jason? mi deve stare un po' calmo, ha capito? abbia un occhio di riguardo nei miei confronti perché io sono messo così, aglia basta con sto cazzo di mosse che me l'hai già fatto un'altra volta oh, tu ci vedi, quindi ti metto a posto ancora un po' giocando guadagno un po' di diotrie molto tranquillamente così e ti sfangulizzo un po', peccato che non ho qualche mosse da metterti a posto le orecchie dato che sono otorinola ingoiata aia prano terapeuta Jason, ho preso la variante basta questa mossa Jason spammone ho preso bastardo ma guarda testo schifoso aia basta Jason, te che oh, mega salti te che hai rotto perché hai messo una collana hawaiana al posto de bastardo a pezzo de merda ma come ti permetti di trattermi così, hai capito? noi adesso ho finito quando parleremo a quattro occhi più o meno ci metteremo a posto, ha capito? brutto essere che io l'ho vista prima l'ho vista con la coda dell'occhio aia che ho preso quella collana hawaiana da non so chi ecco l'ha trovata in giro oh ma ce l'ha in su col mio collo porca puttana schifosa che ti becco un'altra volta e ti metto a posto anche l'altro occhio te capito? ma che vedi? quando rompi il cazzo perché ho scelto inarrestabile? sono un coglione aiuto va là perché sei come Jason nell'antico detto occhio per occhio prezzemole finocchio ti è porca miseria guarda che ti cucino che manco in cotto e puttana troia vieni qua devi soccombere basta con ste cazzo di mosse Jason pega i rotti i coglioni guarda te lo dico un'altra volta con sta figa di collana hawaiana un'altra volta te lo dico basta me l'hai già messo a posto tremila volte il collo e ancora una volta? no questa volta il pancreas perché sapete che occorre anche il pancreas per vivere brutto schifoso ancora una volta marrano no ti è ti finisco così voilà andiamo a fare quattro passi e l'ama ti ringrazio Kenshi wins ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto ci vediamo il prossimo giorno con un nuovo scontro a tema e la madonna quanta roba che ho sbloccato alla prossima ciao ciao